Bentornati su MyFootballGepsy. Oggi vedremo insieme la terza maglia del Chelsea per la stagione 22-23 in edizione FUN. Come al solito la terza maglia del Chelsea 2022-23 sarà l'ultima delle tre maglie principali del club ad essere rilasciata, probabilmente a settembre. La terza maglia Nike Chelsea 22-23 combina una base sesame, oro, con nero e arancio. Dettagli di colore arancio compaiono sui polsini della manica dando un tono più dinamico alla maglia. È un design molto semplice senza grafiche e motivi stravaganti. L'unico dettaglio appare nella forma del pannello posteriore del colletto e dei polsini delle maniche che sono neri con arancione. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100% ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike e del club verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. Cosa ne pensate? Il complesso secondo me è una bella maglia. Nella mia classifica questa prende tre stelle. Semplice però la rifinitura arancio e nera comunque gli dà un suo fascino. La maglia è fatta molto bene comunque con un tessuto morbido, cuciture che non danno fastidio, le patch cucite nel modo giusto ed è veramente incredibile che si trovi al prezzo che vedete qui sopra. Tra l'altro vi ricordo che in descrizione, qui in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e trovate anche un link per poter ottenere un coupon da 3 dollari e quindi quel punto il costo diminuisce ulteriormente e diventa ancora più vantaggioso. Ora prima di lasciarvi la parte finale vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto ciao! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione fan.